Un posto al sole anticipazioni. Trama puntate, giovedì, 14 aprile 2022. Proseguono senza sosta, i disperati tentativi di nunzio, volti ad allontanare Chiara, dalla sua dipendenza dalla cocaina. Michele, totalmente all'oscuro dei problemi della ragazza, si convince che tra loro, ci siano soltanto tensioni relazionali. La Petrone, intanto, si prepara a ricevere una brutta sorpresa, da parte di Lara Martinelli. La ragazza scoprirà prima o poi, di che pasta è fatta la donna, e che intende solo incastrarla? Fabrizio, ignaro della crisi personale di Marina, decide di organizzare una sorpresa davvero romantica, per distendere un po' gli animi. La Giordano, però, anche se non vuole ammetterlo, non fa che pensare a Ferri. Si presenta per Bianca, l'atteso momento di fare i conti, con la propria coscienza. Si sta esponendo a troppi rischi, ed è arrivato il momento di dire basta, alle web challenge. Ma come uscirne? Grazie a tutti.